Il Milan fa sudare freddo i suoi tifosi prima di trovare il gol vittoria a San Siro contro il disastrato Genoa. Nel primo tempo infatti il solo El Sharawi prova a fare qualche cosa per il diavolo contro un grifone alquanto spennato ultimamente. Nella ripresa le due squadre migliorano ed Emanuelson qui la mette di poco a lato. Poi si comincia a giocare duro e fioccano ben sei cartellini gialli due dei quali finiscono sul droppone di Jankovic che lascia i suoi in dieci per questo fallo su Abate. Il Genoa allora si chiude ancora di più per strappare un punticino ma il Milan ha pochi minuti dal termine. Segna con il solito Kevin Prince Boateng. La rincorsa del Milan può quindi continuare mentre Genoa se la giocherà con Lecce per non finire in Serie B.